questo è il modo migliore per rimanere ovviamente grassi a vita e poi fare i conti con i carboidrati che ovviamente puniranno chiunque ci si scagli contro quali sono le sostanze peggiori che aggiungono cosiddetto sapore che poi non è vero e che fanno continuare ovviamente a ingrassare come nulla fosse ne vediamo tre le peggiori che sono sulla faccia della terra te ne faccio vedere due le che sono le peggiori queste qua olio e sale che non servono a un cazzo e poi molto utilizzato nella cucina italiana pepe e spezie non tantissime noi come ad esempio gli indiani infatti sta esplodendo un'obesità in India che è una cosa pazzesca perché quelle molecole che avete visto sono estratti questo qua poi addirittura è una roccia minerale quindi praticamente sto mandando giù delle rocce che fa dei bei cristalli all'interno del corpo pensate che col sale ci si mantenevano i cibi ci si mantengono i cadaveri quindi se mantiene fuori mantiene pure dentro quello che non deve rimanere un grammo di sale 100 ml di acqua fatelo per diversi giorni ecco fatto che uno mette su 1-2 kg di eccesso di acqua e prima che li smaltisce è un tossico della madonna questo è puro grasso che diventa grasso nel corpo e non serve a nulla non alimenta come posso dire che queste sostanze sono inutili all'alimentazione umana totalmente proprio totalmente semplice eppure non è difficile da capire ci potete fare un pranzo con questo una cena quello che volete sì se volete morire fatelo pure se mettete una mano qua dentro ve la disidrata come nulla quindi no questo quindi è inutile non è un alimento e se non è un alimento è un farmaco con questo ci potete fare un pranzo una cena il pepe o altre spezie no sembra meno che non volete morire e finire un reparto di intossicati se ce la fanno a salvare la vita direi proprio di no con questo ce la fate a fare un pranzo che sazia una cena mandarlo giù così e vi ammazza in 4-4-8 ora prendete un chilo di zucchero mandatelo giù così come nulla fosse e vedete che non vi ammazza ma vi nutre e poi il problema è lo zucchero una cosa che voglio ricordare molti dicono ah ma lo zucchero bianco il colore dello zucchero è quello se io lo estraggo dalla frutta sempre bianco rimane se lo estraggo da una rapa sempre bianco rimane è proprio il suo aspetto quindi lo zucchero è zucchero punto non quello modificato chimicamente ovviamente queste sostanze hanno il brutto vizio di aggiungere sapidità non aggiungono sapore perché quella cosa sa di sale quella cosa sa di pepe o quella cosa sa di olio quindi sto assaporando l'olio perché sto mangiando delle cose che non sono propriamente perfette per le nostre papille gustavite infatti anche nel gruppo riservato ho detto levate di mezzo il sale levate di mezzo tutto molti mi hanno detto dopo un po' di tempo che non mangio più il riso le cose col sale tutto ha un altro sapore molto migliore perché bisogna ripulire le papille gustative ripulire ovviamente queste di papille gustative uno dice ma è più buono se tu puoi andare avanti col buono c'è tante cose molto più buone del sale dell'olio e del pepe la frutta è una di quelle quando si ripuliscono le papille gustative è un sapore incredibile io ho fatto vedere adesso lo prendiamo qua le ho appena prese da madre natura direttamente all'albero sono un espole il primo frutto di stagione una goduria perché è frutta presa da un albero mamma mia ragazzi presa maturata sull'albero non è che le altre frutte non si prendono all'albero lì non ci sono vestiti non c'è acqua data dall'uomo non c'è niente perché sono preante spontanee lasciate lì e ragazzi quella è frutta numero uno quindi il miglior modo per continuare ad avvelenarsi e a mettere su peso perché fa mangiare inutilmente e non mangiare il cibo integrale integralmente come l'ho affermata natura e mettere queste sostanze tossiche e venenose che veramente ammazzano una cosa pazzesca e poi il problema è lo zucchero bianco anche quello rifinito questo è il miglior modo per continuare a lamentarsi del peso che non va giù pur mangiando anzi non mangiando quasi per niente alcuni proprio perché crea uno sconvolgimento metabolico perché queste sostanze non sono previste da matratura sì certo qualcuno dirà anche lo zucchero estratto da un barbapietolo a una canna non è previsto d'accordo ma perlomeno ci abbiamo il palato per quello da una mano all'inizio l'ho detto non è che ci si può vivere ovviamente perché lo zucchero numero uno perfetto è quello della frutta il nostro primo zucchero il migliore zucchero per noi è il fruttosio neanche il glucosio il glucosio lo mettiamo in secondo posto queste proprio non dovrebbero neanche esistere a parte che costano l'ira di dio soprattutto questo qui questa soluzione ammazza uomini davvero non so a che cosa possa essere utile è lunguente ci si lubrifica infatti serve a lubrificare per far scorrere meglio le cose ma non di certo andrebbe finito dentro un corpo umano uno dice eh ma le olive esistono sì esiste l'oliva ma non l'olio anche l'oliva è un frutto che non si può mangiare nel suo stato naturale abbastanza tossico non capisco questa lo capisco ovviamente questo ardore per i grassi anche l'avocado l'avocado non sa di un cazzo letteralmente non è che cazzo sa forse è un po' di si è ben maturo di fitonutrienti ma calcolate che il puro grasso non sa di niente le pure proteine non sanno di niente il puro zucchero sa di dolce perché le nostre papille gustative ancora una volta sono fatte per il dolce che piaccia o no provate a mangiare un pezzo di carne in suo stato crudo non sa niente magari fa sapesse di qualcosa il cartone c'è più sapore ho fatto il confronto nessun alimento di origine che non sia prevista dalla papilla gustativa di origine animale ha sapore quindi se volete ancora continuare infatti quella cosa la gente la cuoce non capisco perché vedo mangiare qualcosa di cotto a me faccio una patata del riso qualcosa che a me non mi nutre così com'è come lo offre ma da natura non capisco ancora come buttare soldi per questa roba sono cristalli provate a farci un pranzo avete visto che queste sostanze basta un proprio sulla lingua uno fa così fattolo con lo zucchero è strana sta cosa vero? perché negare l'evidenza di fatti e qual è la nostra natura? ah lo zucchero fa per in diabetica simpatti cioè abbiamo un pancreas che è una bestia di organo e la natura si è sbagliata questo è un altro metodo per rimanere grassi per continuare a mettere su peso per farsi del male con la salute queste tre sostanze altamente inutili altamente costose che non dovrebbero proprio esistere a voi la scelta se vi è piaciuto anche questo video lasciate un like condividete iscrivetevi commentate anche se volete fate una donazione oppure iscrivetevi al canale tramite un abbonamento che c'è tanti tanti vantaggi c'è il video che ho spiegato che sono i vantaggi per i miei contatti per il gruppo riservato li trovate sotto a questo video come a tutti i video per sapere di più alla prossima grazie a tutti i video